Diciamo che questa chiusura dovuta da Covid, da questa pandemia, ha cambiato quelli che sono i scenari della sicurezza intesa in ambito cittadino. Mettendo da parte quelli che sono gli sforzi e le capacità delle forze di polizia, c'è bisogno di focalizzare che oggi non possiamo più pensare e agire come un anno o due anni fa. Così anche i servizi di vigilanza privati sono cambiati in tempo di pandemia. Il comparto infatti negli ultimi mesi, oltre a svolgere ininterrottamente il proprio lavoro durante l'intera fase del lockdown, è impegnato a svolgere anche nuove mansioni, spesso al fianco delle forze dell'ordine, soprattutto nei controlli anti-Covid per garantire il rispetto delle normative vigenti. Un esempio sciocco, le discoteche sono chiuse, locali da ballo, quindi tutto il pubblico, tutte le persone che si riversavano in quelle sale sono sulla piazza. Quindi il sistema di sicurezza nelle piazze non può essere lo stesso che veniva utilizzato fino a due anni fa, perché la popolazione della piazza è cambiata. La vigilanza privata è dunque sempre più utilizzata per l'ordine pubblico. La sicurezza non è mostrare i muscoli, il farsi vedere supereroi o i rambo, no, assolutamente, ma si tratta di fare la sicurezza. La sicurezza è un qualcosa di particolare, è anche quella sanitaria, è quella urbana, è quella di tutto quanto.